Oggi andremo a vedere una funzionalità di Excel che a me piace veramente, veramente tanto. I filtri dinamici, anche chiamati slicer. Andiamo nel file di esercizio così capiamo subito come funzionano. Io qui che cosa ho creato? Ho creato una pivot, partendo dal modello che abbiamo utilizzato nelle precedenti lezioni, e ho creato un grafico pivot. Difatti io qui ho nascosto i campi dal menu, però è un grafico pivot. Per chi non lo sa creare, basta andare su una cella bianca di Excel, menu inserisci, e qui troviamo grafico, grafico pivot. Così facendo creiamo appunto un grafico che risponde come una pivot. Quindi possiamo andare a giocare con gli elementi come se fosse una pivot tradizionale. Allora, io ho questi due elementi e vorrei che quando vado a filtrare la pivot, anche il grafico venisse filtrato a sua volta. Come posso fare questo tipo di attività? Ci vengono incontro i filtri dinamici. Quindi facciamo un clic ad esempio sulla pivot, così compare il menu contestuale analisi tabella pivot in alto. Lo clicchiamo e andiamo qui su inserisci filtro dati. Quando andiamo qui, lui ci dice, guarda, prendi i campi da quello che c'è nel tuo modello. Quindi in questo caso WIP è anagrafico. Ipotizziamo che prendo un nuovo vecchio, che non lo sto usando nella pivot e nemmeno nel grafico pivot. E poi mi prendo ad esempio l'articolo linea. Do l'ok. Perfetto. Qui ha creato questi due filtri dinamici, questi due slicer. Adesso lo ridimensiono un attimino. Ora vediamo che se io clicco S1, la pivot viene filtrata su S1. Però io voglio che questo succeda anche sul grafico. Quindi posso fare clic destro sul filtro dinamico, connessioni in rapporto, e vedete che qui lui mi mostra tutto quello che c'è. Ma non solo quello che c'è nel foglio, perché vedete che lui mi dice foglio 1, foglio 1. Se avessi altri pivot o grafici in altri fogli del mio file, li vedrei tutti quanti con i nomi definiti qui. Quindi quando andate a creare una pivot o un grafico pivot, andate sempre nel menu contestuale analisi grafico pivot o analisi tabella pivot, e definite sempre un nome, in modo che poi quando utilizzate gli slicer, sia un po' più chiaro capire poi cosa andate effettivamente a connetterle. Perché se avete ad esempio 10 pivot all'interno del stesso foglio, diventa magari difficile capire a quale pivot stiamo trattando, pivot 1, 2, 3, 4, qual è che devo andare a connettere. Ok, quindi nominate sempre tutto bene bene. Qui adesso cosa faccio? Vado a fare un flag anche sul grafico e do l'ok. Dopodiché vedete che adesso si è già filtrato. Lo faccio anche su un nuovo o vecchio, perché lo devo fare per ogni singolo oggetto che vado a creare. Clicco destro, vado a fare connessioni rapporto e anche qui clicco sul grafico e do l'ok. Perfetto, adesso li ho agganciati. Se elimino il filtro, vedete che il filtro risponderà su entrambi gli oggetti. Se vado su un nuovo o vecchio, che è comunque un campo che non è esposto su entrambi gli elementi, e filtro new, vedete che comunque funziona ugualmente. Quindi posso evitare di esporre dei campi che possono essere fastidiosi ma devono essere utili solo per andare ad eseguire i filtri. In più, questo tipo di modalità è anche più accattivante visivamente, perché ho gli elementi e posso decidere con un click cosa andare a filtrare. Posso anche giocare, perché ad esempio vedete che qui mette tutto in linea. Posso andare qua su, nel menu contestuale, dopo che ho selezionato il mio elemento, filtro dei dati e qui posso andare a giocare con le proprietà. Ad esempio posso aumentare le colonne, vedete che vado ad aumentare gli elementi su più colonne, così posso andare a giocarci meglio. Oppure posso andare a cambiare i colori, quindi definirli con più colori differenti per dare evidenze differenti. Posso anche andare a ridurre la grandezza dei pulsantini, vedete, e qui posso appunto andare a giocare con queste cosette qua. Ok, capita sta cosa qua, facciamo anche un click destro e andiamo in proprietà, che è su dimensioni e proprietà, eccolo qua. Così compare il menu qui sulla destra che ci permette di avere delle funzionalità aggiuntive. Quello che ci interessa di più sono proprio le proprietà che sono qui. Ecco che qui troviamo queste opzioni che ci tornano molto utili. Di default lui mette sposta ma non ridimensionare con le celle. Cosa significa? Se io vengo qua e allargo una colonna, vedete che lui non va a ridimensionare niente. Quindi facciamo CTRL Z. Se vengo qui e aggiungo una colonna, però si sposta. Se invece lo seleziono e dico sposta e ridimensiona con le celle, quando io allargo vedete che anche il filtro cambia la sua dimensione. Invece se vado a fare non spostare né ridimensionare con le celle, anche quando vado ad aggiungere una colonna, comunque il filtro non si sposta. Vedete che questo invece si è spostato. Poi qua sotto abbiamo altre due proprietà. Possiamo decidere se stampare oppure non stampare l'oggetto quando andiamo a stampare proprio fisicamente il nostro foglio di Excel. E qui abbiamo il flag che dice se l'elemento è bloccato oppure no. Questa è una funzionalità che è utile quando andiamo a proteggere i fogli. E ora vediamo come selezionare più elementi all'interno di un filtro dinamico. Quindi se andiamo qui dove abbiamo appunto più selezioni, vedete che se faccio clic io seleziono solo un oggetto, ma se voglio selezionare di più ho due sistemi. Posso usare questo bottoncino che vedete qua. Quando lo clicco lui entra in selezione multipla, quindi quando vado a cliccare mi permette di fare una selezione multipla dei miei oggetti. Se ce l'ho defleggato ovviamente ogni clic che vado a fare lui ne seleziona sempre solo una. Se non voglio usare questo oggettino qua posso utilizzare il tasto CTRL in basso a sinistra sulla tastiera. Tenendolo premuto posso andare ad eseguire una selezione multipla. E solo quando rilascerò il tasto CTRL lui andrà ad applicare il filtro. Un altro vantaggio che gli slicer ci danno è che visivamente ci fanno capire cosa possiamo filtrare e cosa non possiamo filtrare. Facciamo un esempio pratico. Tagliamo questo filtro, vedete che ora ha questi valori SY, SZ, SX e così via. Se filtro NEW che cosa succede a questo elemento? Che SL è stato spostato in fondo insieme ad SY. E se facciamo un zoom vediamo anche che hanno un colore diverso rispetto a quelli sopra. Se io vado a filtrare SL non otterrò nessun dato perché tutti i record che hanno la voce NEW vado a filtrare qui il record lì e non trovo nessuna linea che abbia il valore SL. Quindi lui quando andiamo ad applicare un filtro all'interno dello slicer tutti gli altri oggetti si adeggano di conseguenza escludendo, portando in basso, tutti quegli elementi che se filtrati ci darebbero un risultato nullo. Questa è una scelta che possiamo decidere come viene vista, ad esempio se facciamo clic destro e andiamo su impostazioni filtro dati, quindi non sulle proprietà ma su impostazioni filtro dati, ci compare l'impostazione del filtro e qua noi possiamo dirgli Nascondi elementi senza dati. Se clicco qua e faccio ok addirittura me li fa sparire. Se io ora tolgo il filtro da NEW SY è ricomparso e anche SL è ricomparso, quindi posso decidere se farli vedere in fondo per far capire che ci sono oppure farli sparire completamente. Un'altra cosa interessante che all'interno delle impostazioni filtro dati è che possiamo andare a cambiare il nome, la didascalia di come si chiama questo oggetto, quindi possiamo personalizzare il nome del campo in modo che sia più capibile. E qui possiamo decidere se mettere gli elementi che vengono esposti all'interno dello slicer in ordinamento a Z, ZA oppure lasciarli come lui li legge direttamente nella base dati. Un'ultima cosa interessante da sapere come spunto di utilizzo è che noi potremmo avere più fogli di dati e vorremmo avere magari un foglio unico dove gestire i filtri per tutto il report. Quindi noi potremmo andare a creare i filtri dinamici qui, li prendiamo, li selezioniamo con lo shift così possiamo selezionare più di uno e facciamo CTRL X oppure andiamo sul menu home e prendiamo la forbicina così li tagliamo. Facendo CTRL X e andando a creare un foglio nuovo poi facciamo CTRL B, incolla, ok? Oppure possiamo andare qui e facciamo incolla con questo bottone e così facendo abbiamo trasferito gli slicer su un altro foglio. Se andiamo qui facciamo testo destro connessione rapporto pivot dobbiamo però ricordarci attenzione a rifleggare gli elementi che devono essere connessi a questo slicer perché perde questa funzionalità. Quindi vanno di nuovo rifate queste selezioni quindi lo create, lo spostate e poi andate a selezionarle. Così facendo se io clicco new ovviamente qui viene filtrato tutto con new. Ipotizziamo che questo non lo voglio gestire sulla pagina iniziale, lo metto di qua, lo posso fare, ok? Vengo qua faccio un bel connessione in rapporto pivot, adesso lo connetto perché ho spostato, questo è connesso, poi facciamo ad esempio un altro foglio di lavoro e qui ci mettiamo ad esempio un'altra pivot e questa qui magari è a posto di avere le unità di misura, facciamo finta che è una vista fatta così e basta. Ok, io vengo qua su questo che è centrale e vado a dirgli guarda mi devi far funzionare il filtro su tutti e tre gli elementi. Invece questo lavora solo su questa pagina. Quindi togliamo ad esempio la tabella pivot che ho appena creato. Quindi questo qui lavorerà qui, se filtro S9 si filtreranno questi due. Invece di qua non viene filtrato perché ipotizziamo che noi abbiamo un report, entriamo e vogliamo fare un'analisi su tutto il report di quello che è nuovo oppure che è vecchio come prodotto. Quindi io dall'inizio filtro il nuovo, tutto il mio report perché questo slicer sarà connesso a tutti gli elementi del mio report andrà a cambiare tutta la reportistica in new oppure in old. Poi quando vado dentro posso andare comunque a giocare con gli slicer così posso creare delle belle dashboard interattive e accattivanti anche visivamente per andare a fare tutte le mie analisi di dettaglio sull'elemento che ho filtrato in home page. Ok, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offro magari pensate a stuprare un abbonamento col tasto abbonati che c'è qua sotto. Se invece vorrete supportarmi in altra maniera potreste acquistare qualcosa dal negozio con lo slogan BI4U, Business Intelligence per voi. Trovate anche lo slogan Excel4U con tantissimi gadget bellissimi, cappelline, magliette, tappetini per il mouse, tazze, c'è veramente di tutto e di più. Oppure se acquistate su Amazon magari passate con i link che sono posti sulla descrizione di ogni video. Anche se accedete a un link di un prodotto che ho inserito che comunque non volete acquistare ma volete acquistare un altro prodotto, passando per i miei link comunque Amazon mi riconosce qualcosa dopo un acquisto che andate ad effettuare. Ok, direi che è veramente tutto. Vi ringrazio ancora per avermi seguito sino qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao! Ciao!